Musica Scoperta dalla Guardia di Finanza di scarica di rifiuti pericolosi e piantagione di canapa indiana. Il senatore dà il via libera all'uso delle intercettazioni del senatore Papania ma solo in parte. Truffa con la 488 per un albergo a Selinunte ma il reato è prescritto. Per salvare l'aeroporto di Virgi rimane assente la regione. All'ospedale di Castelvetrano inattivo da mesi il laboratorio di analisi cliniche. Ieri sera il vescovo Mogavero ha presentato il piano pastorale. Buon pomeriggio, ben ritrovati al TG8 Informazione. Apriamo subito con la cronaca. Nella giornata di ieri su segnalazione dei carabinieri di Petrosino, le capitanerie di Porto di Marsala e Mazzara hanno svolto un'operazione di ricerca e soccorso nelle acque prospicenti Torre Sibiliana a favore di un uomo in cui parenti denunciavano la scomparsa. Ricevuta la segnalazione si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. Individuato il soccorso, il malcapitato a circa di 300 metri dalla costa, nonostante le condizioni non ottimali del mare, è stato sbarcato presso il porto di Marsala e affidato alle cure del 118. Dovrà rispondere di truffa e falso aggravato un architetto di Petrosino che avrebbe raggirato una sua cliente. Sentiamo. Truffa e falso aggravato sono i reati contestati da un architetto di Petrosino, il 48enne Giuseppe Indelicato, sotto processo davanti al giudice monocratico Vallone. Secondo l'accusa, il professionista, incaricato da una donna, Giuseppina Giancontieri, di richiedere al Comune una licenza edilizia per la demolizione e ricostruzione di un'abitazione in via Gianinea, fece credere alla cliente di avere svolto il suo lavoro, facendosi consegnare 1.700 euro come compenso. Alla cliente consegnò anche un foglio con carta intestata del Comune di Petrosino relativo al parere favorevole dei tecnici dell'ufficio urbanistica, con tanto di numero di protocollo, timbro del terzo settore del Comune e firma del dirigente, ingegnere Vincenzo Tumbarello. Si trattava però secondo l'accusa di un falso. La Giancontieri, impiegata di banca, lo scoprì quando per ottenere un mutuo chiese al Comune copia della concessione. Le fu risposto infatti che non era stata presentata alcuna istanza. I fatti risalgono all'ottobre del 2013. L'indagine coordinata dal procuratore di Pisa è stata svolta dalla sezione Polizia e Giudiziaria della Guardia di Finanza. A difendere in delicato è l'avvocato Ignazio Billardello, mentre a legare di parte civile per la Giancontieri è Gaetano Di Bartolo. Il Comune di Petrosino ha chiesto di costituirsi parte civile, ma per l'avvocato Billardello non ci sono i presupposti. Continuiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi i finanzieri della tenenza di Alcamo nell'ambito di un dispositivo finalizzato al contrasto dei reati ambientali e alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e una piantagione di canapa indiana composta da 50 piante. Le indagini delle fiamme gialle, svolte con l'ausilio dei funzionali dell'ARPA di Trapani e del personale del Comune di Alcamo hanno consentito di individuare e sequestrare nel territorio un'area privata della superficie di 2.500 metri quadri opportunamente recintata ed interamente adibita a discarica di rifiuti pericolosi in prevalenza amianto miscelato a materiale da risulta. Cinque persone responsabili di tale condotta illecita sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Trapani. E torniamo a parlare del caso riguardante il senatore alcamese Nino Papania. Il Senato ha dato finalmente il via libera all'utilizzo delle intercettazioni legate al parlamentare ma solo in parte. Sentiamo. La casta difende ancora l'ex senatore di Alcamo del Partito Democratico Nino Papania. Ieri infatti al Senato si doveva decidere sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazione di conversazioni telefoniche di Nino Papania ex senatore del PD di Alcamo come richiesto dal GIP presso il Tribunale di Palermo. L'aula del Senato con 139 voti favorevoli 45 no e 21 astenuti ha approvato la relazione dell'Aggiunta delle Immunità che dice sì all'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazione di Antonino Papania per le sole conversazioni effettuate però fino al 1 novembre 2010 mentre rigetta la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni successive alla predetta data. L'accusa per Papania riguardava fatte di corruzione assunzione in cambio di appalto in Sicilia. La richiesta era stata trasmessa al Parlamento il 26 maggio del 2014 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in seguito a indagini si legge nella relazione dell'Aggiunta che riguardano una vicenda di corruzione nell'ambito della gestione del servizio di gestione integrata del rifiuto urbano del lato Trapani 1 in concessione alle mere ambienti SRL in concorso con Orazio Colimberti direttore dell'area sud della società concessionaria e con Salvatore Alestra direttore del lato Trapani 1 avrebbe secondo l'accusa istituito un accordo criminoso in cui riceveva da Colimberti in più occasioni utilità consistite nell'assunzione di numerose persone a lui gradite e da lui segnalate inducendo Alestra a compiere in cambio di tale assunzione atti contrari ai suoi doveri di pubblico ufficiale in pratica in cambio dell'assunzione di personale imposto da Alestra e dal senatore Colimberti avrebbe ottenuto per la sua società il benestare degli organi di governo ambientale sugli appalti e sull'irregolare svolgimento del servizio il fatto si sarebbe potratto dal 2010 fino al maggio 2012 Papania è stato iscritto nel registro degli indagati in data 13 ottobre 2011 con decorrenza 10 settembre 2011 in esito al deposito in procura di un'informativa dei carabinieri datata 9 settembre 2011 per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Ancora un blitz anti-abusivismo commerciale da parte dei vigili urbani di Marsala in un'amplia operazione sono stati sequestrati oltre 500 kg di merce tra frutta, verdura, pesce e ricci di mare 17 i commercianti beccati non in regola controlli in tutte le zone di Marsala da via Salemi a via Mazzara a via Trapani a Porticella sono sanzioni che vengono effettuate perché non hanno la licenza di vendita e così la merce non può essere certificata insomma è un modo per tutelare la salute dei cittadini Sicilia e Servizi il presidente della regione Rosario Crocetta e l'ex PM Antonio Ingroia prosciolti dalle accuse il servizio La procura della Corte dei Conti non poteva indagare su Sicilia e Servizi in quanto società per azioni e non pubblica e quanto stabilito dai giudici contabili per difetto di giurisdizione si chiude così l'indagine con un proscioglimento a carico del governatore Rosario Crocetta e dell'ex commissario e ora amministratore Antonio Ingroia e di alcuni ex assessori tutti chiamati in causa per la vicenda relativa alle assunzioni di personale nella sentenza i giudici spiegano che il pubblico ministero al fine di sottoporre la società alla giurisdizione contabile la qualifica come organo indiretto a dotazione erariale che sembrerebbe ad avviso del collegio ipotizzare una sorta di terzo tipo tra l'ente pubblico e la società in house che non trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione né in quella contabile Il patrimonio di Sicilia e Servizi non può ritenersi pubblico al momento delle condotte contestate a tutti gli odierni convenuti con la conseguenza che il presente giudizio esula dalla giurisdizione di questa Corte rientrando in quella ordinaria Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta commenta la sentenza con le accuse erano ingiuste Ho sempre avuto fiducia nella giustizia con la consapevolezza che sia il governo sia Antonio Ingroia avessero operato nell'interesse pubblico mentre Antonio Ingroia commenta che si tratta di un'indagine senza giurisdizione significa un'indagine senza né capo né code insomma campata in aria La sentenza alla Corte dei Conti non mi sorprende Inizio Zoppi giornalista e collaboratore dell'Espresso assistito dall'avvocato Fabio Bognanni è stato convocato ieri pomeriggio in procura dopo che la settimana scorsa era stato interrogato assieme al collega Piero Messina con cui ha firmato l'articolo sulla presunta intercettazione del medico Matteo Tutino una intercettazione sempre smentita dalla procura e confermata dal settimanale che ha iscritto i due giornalisti nel registro degli indagati con l'accusa di diffusione di notizie false a Piero Messina inoltre la procura contesta la calugna reato che dopo l'interrogatorio della settimana scorsa viene contestato anche a Zoppi che ieri ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere l'indagine viene condotta dal procuratore Francesco Lovoi e dall'aggiunto Leonardo Agueci l'ex provincia di Trapani dovrà risarcire un dipendente sospeso dal servizio per vicende giudiziarie e successivamente riammesso sentiamo il libero consorzio comunale di Trapani paga oltre 105 mila euro ad un dipendente che era stato sospeso dal servizio per fatti giudiziari ma che è stato reintegrato con la sentenza della Corte di Appello dello scorso mese di aprile il commissario dell'ente Giuseppe Amato ha adottato la relativa deliberazione che tecnicamente prevede il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la somma da corrispondere al dipendente Vito Giacalone nel 2003 era stato sospeso dal servizio per essere rimasto coinvolto nel cosiddetto scandalo degli appalti truccati e nonostante non avesse subito alcun processo perché non è stata mai fissata neanche l'udienza preliminare la sua sospensione era stata sistematicamente rinnovata dopo una serie di contenziosi e anche risultato soccondente in due diverse cause sono state rigettate tanto le richieste di reintegro nel posto di lavoro che quelle della corresponsione delle retribuzioni per il periodo di sospensione Giacalone infine ha avuto riconosciuto dalla Corte di Appello di Palermo sezione controversia del lavoro il diritto ad essere riammesso in servizio con decorrenza giuridica ed economica dalla 23 dicembre 2010 e di avere corrisposte le differenze retributive fra quanto avrebbe dovuto percepire e quanto in realtà gli è stato finora corrisposto ovvero il cosiddetto assegno alimentare una minima parte dello stipendio il libero consorzio comunale di Trapani anche davanti alla Corte di Appello aveva deciso di resistere in giudizio con la relativa delibera che era stata adottata dall'allora commissario l'ex pubblico ministero Antonio Ingroia Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale sono i reati contestati a un marsalese di 50 anni Alessandro Titone già con vari precedenti penali che il 7 febbraio 2014 in via Trapani invitato da due sottoufficiali della Guardia di Finanza a spostare il suo furgone che stava bloccando il traffico avrebbe reagito con irruenza anzi quando i due militari si sono qualificati perché svolgevano servizio in borghese la reazione sarebbe stata ancora più dura inevitabile a quel punto la denuncia del Titone il cui processo è iniziato davanti il giudice monocratico greco e alla prima udienza si sono costituiti parte civile con l'assistenza dell'avvocato Gaetano Di Bartolo e due finanzieri Lubrano e Missuto a difendere l'imputato è l'avvocato Maria Antonietta Tosto la prescrizione ha eliminato le accuse in un processo per truffa allo Stato legato alla costruzione di un hotel a Selinunte il lecito è stato possibile grazie alla legge 488 il servizio è ormai passato troppo tempo dall'epoca dei fatti la prescrizione ha ormai azzerato tutte le contestazioni come ha rilevato lo stesso pubblico ministero costretto a chiedere il non luogo a procedere per l'estinzione dei reati per i quali si procedeva in fumo dunque tutto il lavoro svolto dalla guardia di finanza di Castelvetrano e dalla magistratura e quanto accaduto nel processo riguardante il caso della contestata truffa ai danni dello Stato commessa secondo l'accusa attraverso i meccanismi della legge 488 del 92 nel corso della realizzazione del Selinunte Beach Hotel i legali della difesa hanno comunque chiesto al tribunale di Marsala di pronunciarsi nel merito con una soluzione in caso di prescrizione infatti gli imputati evitata la condanna penale rischiano però di andare incontro ad una serie di conseguenze di natura amministrativa in subordine la difesa si accontenta della prescrizione la sentenza dopo la replica della PM nelle ultime aringhe dei difensori dovrebbe essere emessa il prossimo 9 novembre 8 alla sbarra fra imprenditori commercianti ed artigiani fornitori di beni e prestazioni d'opera che avrebbero emesso quelle false fatture necessarie per incassare gli indebiti finanziamenti contestati a vario titolo anche i reati di false dichiarazioni ed evasione fiscale artefici della truffa secondo l'accusa sarebbero stati Giovanni Cascio amministratore della Seven Tourist Girolamo Grande amministratore della grande immobiliare con Eugenio Brillo e della costruzione immobiliari Amedeo Brillo direttore dei lavori della Seven Tourist e Giacomo Fundarò amministratore della AS Costruzioni i finanziamenti concessi furono di oltre 2 milioni e mezzo di euro la struttura alberghiera prima sequestrata e poi dissequestrata è tuttora in funzione Auspico che il versamento effettuato dal comune di Mazzara del Vallo possa essere per intero utilizzato dal commissario straordinario della SRR Trapani Provincia Sud per il pagamento di parte degli emolumenti ai lavoratori della Belice Ambiente Mazzaresi stante che i colleghi degli altri comuni sono stati anche loro in parte già pagati questo è quanto dichiarato dal consigliere comunale Ioselita D'Annibale del gruppo Fratelli d'Italia e presidente della prima commissione consigliare prendo atto che un nuoto sindacalista peraltro mazzarese il 5 agosto 2015 lanciava un comunicato stampa con cui evidenziava le gravi criticità in ordine all'igiene e alla sicurezza dei mezzi del lato Tp1 e chiedeva con forza l'intervento delle autorità competenti mentre non ha tenuto e non tiene conto delle condizioni igienico-sanitarie dei mezzi del lato Tp2 nello stesso comunicato stampa del 5 agosto lo stesso sindacalista mazzarese chiede al lato Tp1 di pagare la quattordicesima mensilità ai lavoratori di quell'ambito perché è in ritardo di appena 15 giorni e non scrive una parola sui lavoratori mazzaresi che non percepiscono la retribuzione da quattro mesi a questa parte il consigliere comunale di Mazzara del Movimento 5 Stelle Nicolò Lagrutta con una interrogazione al sindaco chiede di sapere quali sono le azioni poste in essere riguardanti il sito internet del comune l'accesso civico e la trasparenza la trasparenza nella pubblica amministrazione l'obbligo della pubblicazione dei provvedimenti adottati e la possibilità di accedere agli atti amministrativi utilizzando il sito internet del comune rivestono nell'ambito dell'organizzazione dei servizi al cittadino una importantissima forma di partecipazione civica e verifica dell'azione politico-amministrativa Cambiamo argomento mentre comuni e camera di commercio cercano freneticamente di fare il possibile per salvare lo scalo di Birgi grande assente rimane la regione siciliana Sull'argomento intervengono il senatore del Movimento 5 Stelle Sant'Angelo e l'onorevole Fazio Anche seppur tirati per i capelli alcuni con molti mal di pancia per usare espressioni dell'ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio oggi deputato regionale e capogruppo del gruppo Misto Allars i sindaci stanno facendo la loro parte per quanto riguarda il rispetto dell'accordo di co-marketing finalizzato a garantire il prosieguo dell'attività di Ryanair a Birgi ma sul banco degli imputati rimane la regione Premesso che il governo ha approvato il nuovo piano nazionale aeroporti che prevede 38 aeroporti definiti di interesse nazionale fra i quali c'è anche l'aeroporto di Trapani Birgi il senatore Vincenzo Maurizio Sant'Angelo portavoce del Movimento 5 Stelle sostiene che è assurdo che la regione siciliana ancora oggi non proceda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dello Scalo l'AIRGEST della quale è socio di riferimento per un rinnovo che tarda ad arrivare da oltre due mesi fra le assurdità Sant'Angelo per inciso ci mette anche che ancora molti comuni non abbiano rispettato gli impegni del co-marketing e che l'amministrazione comunale di Pantelleria si sia tirata fuori dall'accordo che il governatore Rosario Crocetta faccia sentire la sua voce e il suo interesse per questo territorio ed il suo partito di riferimento il PD batte un colpo se davvero vuol far qualcosa per questa provincia è quello che auspica ancora l'onorevole Ninmo Fazio mentre a schierarsi a difesa della regione ci prove il deputato socialista Nino Oddo Adottare su tutto il territorio regionale regolamenti comunali che prevedano agevolazioni per le vittime dei reati di estorsione e di usura questa la campagna lanciata dall'associazione Codici centro per i diritti del cittadino anche in provincia di Trapani commenta il segretario regionale Manfredi Zammataro non possiamo non lanciare questa proposta nei confronti delle amministrazioni comunali accolta già tre anni fa dal consiglio comunale di Catania imprenditori commercianti artigiani e liberi professionisti potranno essere esentati totalmente dal pagamento dell'IMU della TOSAP della TASI dell'imposta comunale sulla pubblicità e dall'imposta sui canoni idrici laddove di competenza del comune per cinque anni il fine è quello di concedere misure premiali e di concreta convenienza economica a favore di chi si oppone al racket e all'usura all'ospedale di Castelvetrano il laboratorio di analisi cliniche è inattivo da mesi tuona il Movimento 5 Stelle sentiamo da oltre quattro mesi resta chiusa a Castelvetrano il laboratorio di analisi cliniche presso l'ospedale Vittorio Manomele e scatta la protesta per il disservizio all'utenza a lanciare l'allarme il Movimento 5 Stelle subito la riapertura tuona in un comunicato alla deputata regionale alcamese Valentina Palmeri nella sua interrogazione dall'assessorato regionale della sanità la parlamentare chiede di intervenire urgentemente alla riapertura del laboratorio di Castelvetrano il reparto rimane chiuso dal 25 maggio scorso la motivazione sembrerebbe legata al cambio gestionale del software interno al servizio di analisi cliniche una criticità che ha scatenato la reazione dei grillini appare fuori luogo afferma la parlamentare 5 Stelle la chiusura di un reparto così importante a causa del cambio di un software che in un paese civile non può trovare alcuna giustificazione per un periodo così lungo inoltre continua la Palmeri proprio l'ospedale di Castelvetrano a causa della sua posizione logistica svolge un ruolo fondamentale di servizio per i cittadini provenienti dai paesi limitrofi e per tutti gli utenti della valle del Belice l'imprenditore dell'Arabia Saudita Musa Darkwish Braik è stato in visita alla Camera di Commercio di Trapani dove è stato ricevuto dal Vice Presidente dell'Ente Luigi Giacalone nel corso dell'incontro si è parlato delle opportunità di investimento nel comparto turistico soprattutto per quel che riguarda il settore alberghiero e quello dei servizi importante incontro ieri mattina al Palazzo Municipale di Marsala fra il Sindaco Alberto Di Girolamo e il Comandante del 37esimo Stormo di Birgi Colonnello Luca Capasso presente il Capo Ufficio Comando della Base Militare di Birgi Tenente Colonnello Andrea Chiani nel corso della riunione ad una specifica domanda del Sindaco di Girolamo legata ai possibili disagi al traffico aereo a causa dell'esercitazione Nato il Comandante Capasso ha decisamente smentito nella serata di ieri il Vescovo Domenico Mogavero ha presentato il piano pastorale 2015-2016 tematiche cardine la bellezza la comunicazione e la centralità dell'uomo sentiamo c'è la comunicazione ma anche la bellezza e poi la centralità dell'uomo tre vie scandiscono il nuovo piano pastorale 2015-2016 che il Vescovo Monsignor Domenico Mogavero ha presentato ieri sera nella cattedrale di Mazzara del Vallo il nuovo testo è stato distribuito in versione cartacea ai presenti ma 2000 copie verranno distribuite in tutte le parrocchie della diocesi online sul sito diocesano www.diocesimazzara.it è consultabile la versione digitale bellezza e comunicazione scrive il Vescovo rappresentano il contenuto e la forma dell'annuncio cristiano cioè della comunicazione della fede che il magistero di Papa Francesco considera come dimensione fondamentale dell'annuncio il Vescovo ha parlato della sfida ineludibile di abitare il villaggio digitale perché serve mettere tali importanti risorse a servizio della comunicazione del Vangelo su tutte le piazze del villaggio globale e ancora il Vescovo il digitale è diventato il nostro humus e da qui il doppio volto della bellezza della partecipazione e dell'orizzontalità a cui si aggiunge la bellezza della testimonianza digitale ecco perché la chiesa in rete scrive in un passaggio il Vescovo è chiamata non solo ad un'emittenza di contenuti ma anche ad una testimonianza in una trama di relazioni ampie l'obiettivo da avere chiaro è che la rete da luogo di connessione è chiamata a diventare luogo di comunione poi la centralità dell'uomo il Vescovo evidenzia il ruolo della famiglia e spiega che c'è bisogno di grandi famiglie nelle quali le famiglie nucleari possano trovare una coesione intergenerazionale valorizzando la competenza umana e di esperienza delle nonne e dei nonni e poi la via dell'arte occorrerà dare spazi alla poesia musica arti figurative in tutte le parrocchie perché la via dell'arte agevola la comprensione della trasfigurazione della vita nello spirito delle beatitudini rimaniamo in tema Don Alessandro Palermo 27 anni proveniente dalla chiesa madre di Salemi sarà ordinato presbitero dal vescovo sabato 19 settembre alle ore 19 nella chiesa cattedrale di Mazzara del Vallo Don Alessandro presiderà la sua prima messa alle ore 11 di domenica 20 settembre nella chiesa madre di Salemi la veglia di preparazione all'ordinazione sarà celebrata stasera alle 21 presso la chiesa della concezione a Salemi nuovo arciprete di Campobello sarà Don Nicola Marcello Patti che domenica prossima durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mogavero che si terrà alle ore 17.30 nella chiesa madre assumerà l'incarico di parroco di tutte le parrocchie cittadine nonché di quelle delle frazioni di Tre Fontane e di Torretta Granitola Clelia Witt so che sei qui Elsa ha 30 anni ha avuto un incidente in montagna e ora si trova in ospedale in coma sente tutto ma non riesce a comunicare con l'esterno Tibold è in ospedale perché suo fratello è ricoverato dopo un incidente d'auto un giorno per errore entra nella stanza di Elsa e si addormenta su una sedia quando si accorge di lei imbarazzato dal silenzio e senza una ragione apparente inizia a parlarle la stanza di Elsa diventa il perno di un equilibrio impossibile ma assolutamente felice ed Elsa ascolta tutto ma non può rispondere Lee Child punto di non ritorno in punto di non ritorno un ex poliziotto militare dotato di un innato senso di giustizia torna a casa dalla neve del sud Dakota si sposta in Virginia nella sede della sua vecchia unità di quando era maggiore della polizia militare lo fa per conoscere di persona la donna che ha preso il suo posto quella Susan Turner che fino a ora per lui è stata solo una voce al telefono ma la persona che trova la scrivania non è Susan e il militare riceve due notizie sconvolgenti una che ha gravi conseguenze penali e una molto troppo personale Javier Cercas l'impostore un romanzo vero ma allo stesso tempo un'opera di finzione la finzione però in questo caso non è frutto della fantasia dell'autore ma è opera dello stesso protagonista Eric Marco chi è Eric Marco? un novantenne di Barcellona militante antifranchista che negli anni 70 è stato segretario del sindacato anarchico e in seguito ha presieduto l'associazione spagnola dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti in realtà però è un impostore e nel 2005 la sua menzogna è stata pubblicamente smascherata Nicola Gardini la vita non vissuta agli occhi degli altri e forse anche i propri Valerio ha l'aria di un quarantenne di successo eppure in un istante tutto perde senso basta incontrare Paolo giovane pittore di talento e amante appassionato tanto fascinoso quanto insicuro perché di colpo Valerio decida di voltare pagina finalmente insieme a Paolo potrà cominciare quella vita che già dai tempi della scuola sogna di vivere e che ora gli si occupa irrinunciabile quando ecco che una telefonata rivela l'illusione Paolo ha appena scoperto di essere siero positivo un romanzo intenso che riflette sulla sofferenza del corpo e del pensiero sulla dissoluzione dell'identità sulla fortuna sulla colpa sul desiderio sulle parole e sul senso della fine Pubblicato all'albo Pretorio Online nella sezione Bandi e avvisi del portale comunale di Mazzara del Vallo l'avviso pubblico affirma del dirigente del settore comunale affari sociali Maria Gabriella Marascia concernente i criteri e le modalità di erogazione del bonus di 1000 euro per la nascita di un figlio nell'anno 2015 o per l'adozione formalizzata nello stesso anno il budget complessivo stanziato dall'assessorato regionale e la famiglia per tutti i comuni dell'isola a montar circa 446 mila euro saranno 223 per ogni semestre i beneficiari nell'isola questa mattina abbiamo ricevuto in redazione una segnalazione di un cittadino che lamenta abbondanti fuoriuscite di acqua nella via Tevere esattamente tra il civico 5 e il 7 il disagio risale a diversi giorni fa e lo stesso cittadino si è rivolto sia ai vigili urbani che all'ufficio acquedotto che hanno risposto che sarebbe stato fatto un intervento rapido fino ad oggi però non è successo nulla il prezioso liquido continua a sgorgare e a disperdersi niente corse di aliscaffi per da Marettimo stamane a causa delle avverse condizioni meteomarine che si legge nella nota diffusa dall'Ustica Lines rendono impossibile l'ormeggio in sicurezza nel porto dell'isola regolari invece quelle per Levanzo e Fabignana L'Ustica Lines conclude la nota si scusa per il disagio subito dai cittadini di Marettimo e da quanti avrebbero dovuto recarsi nell'isola determinato esclusivamente dalle cattive condizioni del tempo in mare e pertanto indipendente dalla volontà della società Apriamo adesso la pagina sportiva il Marsala Bartela Frattese per 2-1 e riscatta prontamente la rocambolesca sconfitta di Vibo Valencia Mister Pergolizzi non cambia e schiera lo stesso 11 iniziale di domenica scorsa in panchina anche gli ultimi due ennesti Genesio e Chiaria E' tutto per questa edizione del TG8 Informazione noi vi ringraziamo per l'attenzione vi auguriamo una buona giornata appuntamento a domani Grazie